E' stata l'edizione che ha sancito i 100 anni di gare nel Principato di Monaco. Stiamo parlando della 79esima edizione delle rally di Monte Carlo. Vince Brian Buffier, o meglio, vince il più costante in gara, o quello che ha detto di tutti non è incappato in gravi errori come quelli commessi dall'armata Skoda. Quest'ultima presentatasi con ben 4 equipaggi al top. Mikkelsen esce di gara praticamente subito, dopo 400 metri della prima prova speciale. Vince dunque Buffier, anche se la prima giornata di gara dava tutt'altro verdetto, con Stéphane Sarazin vittorioso nel primo crono, poi seguito a ruota e superato dalla Skoda di Hugo Haninen e Mikko Barcula. Terzo, alla fine del primo giorno di gara, era Freddi Loire. All'ottavo posto, invece, c'era una vecchia conoscenza del monte, François de Lecour, che iniziava a prendere le misure della sua 207 Super 2000. Sesto era Ian Copechi, attrattato forse da un passo di gara troppo cauto. Secondo, giorno di gara. Sulla settima speciale inizia nebicare e Buffier va letteralmente in fuga, complice anche un'ottima scelta di gomme. Per la Skoda, invece, è una disfatta totale. Copechi perde più di 7 minuti in due prove dal gruppo dei primi. Haninen, invece, cerca di contenere i danni, ma la scelta di montare gomme intermedie è stata fatale anche per lui. Delecour, dal canto suo, sfoderà tutta l'esperienza che ha su questi fondi, dominando sulla neve. Sale in classifica fino al secondo posto, ma Buffier sembra ancora imprendibile. Terzo a fine giornata è il belga Freddi Lua, protagonista di qualche svarione, ma sempre nella top 5 di prova. Svarioni che commette anche il leader Buffier. Quarto è l'inglese Guy Wilkes, che dimostra un'ottima andatura sulla neve. Haninen, con la debacle del team cieco, è pur sempre sesto. Al settimo posto c'è Peter Solberg, alla sua prima gara in Super 2000. Anche lui paga qualcosa per una toccata e fa segnare un ritardo di circa 4 minuti dalla vetta. Nono a 5 secondi e 31 e Nicola Bouillaud. In gruppo N domina Gonon su Subaru. Terzo ed ultimo giorno di gara. Con 5 prove speciali, compreso il mitico Col de Tourigny, per decretare il vincitore di questo Monte Carlo. Lua, partito con 48 secondi di ritardo da Buffier, le prova tutte, ma il francese della Peugeot non rischia più di tanto e vince. Segue Fast Freddy, Guy Wilkes, che compete al podio. L'inglese è stato autore di una gara da incorniciare, su un fondo lui poco congeniale. Quarto è Sarazan, partito subito forte, ma poi è tardato da noie sulla sua 207 Super 2000. Quinto alla fine è la leggenda del monte, François de Lecour, sempre spettacolare quanto veloce. Al sesto posto assoluto troviamo Yoko Hanninen. A chiudere la top 10 ci pensano Gardmeister e Tuominen, autori di una gara regolare. Interessante la sfida tra le Citroën DS3 R3T a vincere e lo svizzero Bourree.